Colline e montagne imbiancate, forti precipitazioni in pianura e temperatura impicchiata. L'inverno torna a invadere la primavera piacentina. Un evento non straordinario ma sicuramente inusuale. All'alba di stamattina infatti, sopra i 400 metri una coltre di neve ha caratterizzato l'intero paesaggio. L'accumulo nevoso in alcune località ha superato i 30 centimetri. Spazzaneve in azione dall'Alta Valdarda all'Alta Valtrebbia. Il maltempo ha provocato anche alcuni danni e disagi. A Groppovisdomo, nel comune di Gropparello, il peso della neve unito al forte vento ha provocato il cedimento della struttura degli Alpini. A San Michele di Morfasso, 150 residenti sono rimasti senza elettricità per alcune ore. Necessario infatti l'intervento di due squadre di operatori dell'Enel. In Alta Valdaveto e in tutte le zone colpite dalla nevicata preoccupazione per alberi e rami piegati. La neve e le temperature rigide stanno mettendo in crisi anche l'agricoltura piacentina, soprattutto vigneti, cereali e tutte le colture già in fiore. Le gelate tardive infatti potrebbero compromettere i prossimi raccolti. Il colpo di coda dell'inverno nel piacentino, con le sue precipitazioni sia di carattere nevoso che temporalesco, ha fatto scattare l'allerta meteo per pericolo di frane e allagamenti, con attenzione particolare ai comuni di Ferriere, Ottone e Zerba. Secondo la protezione civile, infatti, si potranno generare fenomeni franosi, ruscellamenti sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua. Il maltempo proseguirà anche per l'intera giornata di domani. La persistenza di aria artica dalla Scandinavia manterrà le massime al di sotto dei 6 gradi. Un miglioramento è previsto in vista del ponte del 25 aprile, con la perturbazione che si sposterà verso il centro Italia. Nel frattempo, anche a Piacenza, come diversi comuni del nord, ha deciso tramite ordinanza del sindaco di autorizzare l'accensione degli impianti di riscaldamento fino al 24 aprile compreso.